Mi trovo all'aeroporto di Bari Palese, il 19 agosto 2023, sono di rientro dalle vacanze con la mia famiglia. Quando sono arrivato ai controlli usuali, io e mia moglie negli zaini ci siamo dimenticati una borraccia sia nel mio zaino sia nel suo, quindi due borracce piene d'acqua. Naturalmente ce ne siamo dimenticati perché sappiamo che usualmente bisogna svuotare prima di passare i controlli. Abbiamo passato i raggi X eccetera eccetera, ci siamo ritrovati con tutto il bagaglio a posto. Quando siamo arrivati al bar, siamo qui in attesa del volo, abbiamo aperto gli zaini e ci siamo resi conto che entrambi avevamo una borraccia piena d'acqua nei nostri rispettivi zaini. Questo naturalmente ci ha colpito molto e devo dire ci dà un po' di apprensione perché sappiamo tutti, abbiamo visto nel recente passato, che cosa ha portato la leggerezza nei controlli negli aeroporti. Quindi vorrei pensare che fosse una svista o uno sbaglio, però ripeto, pensare che in due zaini distinti i controlli non abbiano saputo vedere due borracce piene, non vuote, ripeto perché sarebbe ovvio, ma piene d'acqua mi lascia veramente perplesso. E quindi vorrei segnalare questa, secondo me, incuria nei controlli perché ritengo sia molto molto grave. Ripeto, 19 agosto 2023, Bari Palese, mi trovo qui in attesa di imbarcarmi sul volo che mi porterà a casa.